Ciao a tutti, come fare in modo che lui ti cerchi e ti desideri? Prima di affrontare questo tema, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Nonché iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Allora, se vuoi che lui ti cerchi e ti desideri, devi fare alcune cose. La prima fondamentale è eliminare la tua paura di essere abbandonata da questa persona o addirittura di essere rifiutata. La seconda è elaborare delle strategie di seduzione finalizzate, diciamo, ad amplificare l'imprinting che ha vissuto per darvi emozioni. Allora, intanto ti anticipo che questi temi li tratterò dettagliatamente in un seminario che farò a Torino, venerdì 15 novembre 2019 alle 20.45 e il riferimento è il 333 15 11 703. Ma veniamo al, diciamo, un po' al tema. Perché devi eliminare la paura dell'abbandono? Perché se tu temi di essere abbandonata o temi di essere rifiutata o temi di essere scartata, beh, metterai in atto un comportamento in cui diventerai, diciamo, come dire, se hai paura di essere abbandonata, normalmente la cosa che si fa è si cerca questa persona, cioè lì si sta appiccicati come delle piattelle sullo scoglio, per cui si ottiene l'effetto contrario. Si ottiene l'effetto contrario perché se lui percepisce che il desiderio che ha o che avrebbe coincide col possesso, ovviamente non gli frega assolutamente niente di inseguirti. Anzi, sarà saturo, ti avrà a disposizione, ti terrà come ruota di scorta. Quando non avrà un'altra, verrà a cercare te, ma soltanto per, diciamo, sfogo fondamentalmente, senza provare desiderio, senza provare vero interesse, senza provare vero amore. Perché per desiderare abbiamo bisogno di percepire l'assenza di una persona. Ecco quindi che queste sono, questo è un fatto fondamentale, molto importante, quindi se tu vuoi imparare a, diciamo, a farti desiderare, devi superare la paura dell'abbandono. Oppure compulsivamente ti sentirai appiccicata verso questa persona. Come fare a superare la paura dell'abbandono? Beh, intanto devi diventare padrone delle tue emozioni, imparare a erogarti le giuste emozioni. E per erogarti le giuste emozioni devi capire quali sono stati i tuoi turbamenti. Noi possiamo capirlo analizzando la comunicazione non verbale su di noi. Noi emettiamo ogni giorno continuamente dei segnali di comunicazione non verbale e possiamo capire quali sono i turbamenti, ad esempio, i simboli che ci possono coinvolgere. Se è più un simbolo materno o un simbolo paterno. Una volta che abbiamo capito qual è il simbolo che governa la nostra mente che ci coinvolge, noi possiamo, su di noi, diciamo, attraverso degli atti rituali, ma anche attraverso delle meditazioni che spiegherò venerdì 15 novembre 2019, ora 20.45 a Torino, riferimento 333 15 11 703, darci queste emozioni. Quindi darci le emozioni vuol dire che andremo a saturare praticamente completamente il nostro, la nostra paura di essere abbandonati. Per cui la nostra parte emotiva non avrà più nessun interesse di farcela vivere con un'altra persona. Anche perché in qualche modo la stiamo somministrando noi. Ci vuole un po' di tempo, però si può imparare tranquillamente e anche abbastanza facilmente a mettere in atto queste strategie. Poi altre cose che dobbiamo, tassativamente, imparare a fare sono le strategie di soluzione. Quindi capire quali sono i simboli stimolatori, cioè amplificatori di emozioni, che governano la mente dell'altra persona. Ovviamente i simboli possono essere un simbolo paterno, l'archetipo paterno, l'archetipo materno, oppure anche l'archetipo se stesso. Negocentrismo primario. Capire qual è il simbolo che governa, anche qua lo possiamo scoprire dalla comunicazione non verbale, ma anche, diciamo, analizzando un po' i metaprogrammi. I metaprogrammi cosa sono? Sono dei programmi meta, appunto, che ha studiato la PNL, che sono degli schemi comportamentali che in funzione dell'imprinto in vissuto le persone mettono in atto. Ad esempio ci sono persone che potrebbero resistere, hanno una forte tolleranza alla sofferenza, altre che invece vanno sempre alla ricerca di nuove opportunità, di nuove possibilità. E poi altri schemi comportamentali, sono stati licitati in circa 50 metaprogrammi, per capire qual è quello che stimola fondamentalmente, perché a seconda dei metaprogrammi utilizzati noi possiamo riuscire a capire qual è la mappatura, diciamo, emotiva della persona, soprattutto il vissuto all'interno della famiglia d'origine, e capire qual è il comportamento che dobbiamo noi mettere in atto per andare indirettamente ad essere etichettati come una persona significativa, come una persona in grado di far innamorare. Questo è molto importante perché in questo modo otterremo, diciamo, un risultato importante che è quello di far sì che l'altra persona ci percepisca come emotivamente significativi, come cioè quindi capaci in grado, essere capaci in grado, essere in grado di, essere capaci o essere in grado di erogare emozioni, perché noi tendiamo a innamorarci di tutti quelli che ci erogano emozioni che siano qualitativamente e quantitativamente calibrate sulle esigenze della persona. Ecco, quindi che scoprire questo anche attraverso delle domande particolari che vengono fatte indirettamente e anche attraverso delle osservazioni, soprattutto sul linguaggio non verbale, noi avremo la possibilità in tempi molto rapidi, diciamo, quando dico molto rapidi penso in 5 minuti, 6 minuti. Anche, ci sono degli strumenti per capirlo anche attraverso i social, diciamo, attraverso una chat, qua ci vuole magari un po' più di messaggi perché gli input sensoriali sono diversi, però riusciamo a capire qual è il giusto comportamento che dobbiamo mettere in atto. Anche perché poi le persone, ciò che manifestano all'esterno e all'interno è esattamente il contrario. Potremmo dire che il scusazzo non petita, il scusazzo manifesta, se qualcuno ti dice qualcosa di sua spontanea volontà che tu non gli hai chiesto è perché dentro ha esattamente la cosa contraria. Chi ti parla assolutamente del valore della fedeltà come un valore è perché viene stuzzicato emotivamente dal tradimento e quindi anche in questo caso dovresti fargli percepire questo tradimento perché se non glielo fai percepire non si innamora. Ecco, quindi questi sono i due lati su cui agire, cioè su se stessi per abbattere la porra dell'abbandono e sull'alto per appunto dare stimoli in modo tale da farti desiderare e conquistare la sua mente, conquistare il suo cuore dell'uomo che appunto, dell'uomo che desidera. Tutto questo lo spiegherò dettagliatamente a venerdì 15 novembre 2019, ore 20.45 a Torino e il riferimento è 333 15 11 703. Per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al canale e iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!